buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fano tv sono le 7 di giovedì 23 febbraio 2023 daremo un'occhiata ai giornali vedremo le notizie del giorno quella più clatante naturalmente è l'arresto dell'assassino del giovane che è stato ucciso a pesaro a poco più di qualche ora dal delitto ebbene il giovane è stato individuato ed è stato arrestato stava già fuggendo verso l'est europeo è stato arrestato in romania poi vedremo tutti i particolari intanto passiamo per l'almanacco del giorno e vediamo che oggi per quanto riguarda i santi che si venero e si festeggiano vediamo san policarpo eccolo san poliparco vescovo e martire san policarpo fu un discepolo di san giovanni l'evangelista quindi ebbe la fortuna di essere un allievo di uno degli apostoli fu nominato vescovo di smirne primate di tutta l'asia morì sotto la persecuzione mossa da marcantonio e lucio aurelio fu condannato a rogo ma come è capitato anche ad altri martiri ad altri santi le fiamme non lo lambirono e allora e i crudeli persecutori lo decapitarono questo è san policarpo venerato in asia ma venerato anche in europa vediamo le previsioni del tempo ecco qua la grafica e vediamo che su tutta la regione si spandono delle nubi alternate a schiarite per tutta l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati e proveranno da sud ovest al pomeriggio sempre moderati da est sud est il mare è quasi calmo le temperature si aggirano tra i 9 e 15 gradi e si mantengono sopra leggermente sopra la media del periodo ed ora apriamo il giornale sul resto del carlino l'apertura è dedicata ad un fatto di cronaca che si è verificato durante l'ultima giornata del carnevale a fano tenta il suicidio al carnevale salvata dalla polizia locale si tratta di una cinquantenne che voleva gettarsi nel canale albani ovvero nel porto nel porto canale nei pressi della liscia aveva litigato lei non era fanese il suo compagno era fanese lei aveva litigato con il suo compagno e aveva così minacciato anzi aveva espresso proprio l'intenzione gestualmente di gettarsi al di sotto del canale tra le acque del le acque melmose del porto canale per fortuna i vigili urbani che transitavano in quel momento si sono avvicinati hanno visto il trambusto e hanno afferrato la donna ma c'è stato del bello del buono per ridurla alla regione e a ridurla alla mobilità la donna aveva gettato il cellulare per avere le mani libere e quindi saltare il parapetto per fortuna è stata trattenuta in tempo quindi è stata portata al pronto soccorso e poi in serata quando si è calmata è stata accompagnata nella propria abitazione gli agenti l'hanno trattenuta portandolo in salvo intervenuto anche il 118 afferma il giornale e poi vediamo come sul resto del carino ma anche sul Corriere Adriatico vediamo una denuncia che è stata presentata dalla mamma di una bambina disabile una bambina autistica ebbene a tutti gli autistici a tutte le famiglie che hanno figli autistici il comitato dei sindaci dell'ambito sociale numero 6 ha comunicato una variazione nel servizio di assistenza ebbene imputano alla famiglia alle famiglie il costo del trasporto nei centri diurni e questo aggrava la situazione finanziaria di queste famiglie abbiamo pochissimi servizi denuncia la signora ed ora ci applicano anche il costo del trasporto cosa che fino adesso non era avvenuta è un costo che viene parametrato secondo l'isee delle famiglie però insomma uno che deve affrontare un costo per un servizio extraurbano comincia a pesare perché sappiamo quanto è difficile per molte famiglie arrivare alla fine del mese e quando purtroppo all'interno di una famiglia c'è una bambina o un bambino autistico sappiamo quanti sacrifici quanto impegno richiede questa situazione da parte dei genitori e quindi caricarli di soldi in più in questo caso nel caso della signora sono 200 euro in più al mese ebbene la cosa non è certo facile e la signora chiede la revoca del provvedimento ciclabile o parcheggi viale dante è un vero e proprio rebus il braccio di ferro ha generato il caos fioriscono cartelli segnalettici qualcuno raccoglie firme altri vanno dall'assessore e si così si moltiplica si incalora possiamo dire la querelle che si è generata in viale dante alle ghieri tra chi vuole la pista ciclabile e chi non la vuole perché sacrifica i parcheggi ebbene è determinato un vero e proprio caos caos in viale dante alle ghieri ulteriori cartelli sono spuntati ieri mattina per completare la segnaletica della nuova viabilità sul lato monte della strada quello dove appunto era stata disegnata la pista ciclabile sono stati sottratti i parcheggi ebbene qui la viabilità è oggetto di forti proteste al momento comunque non sarà modificata non sono però in programma né controlli né multe almeno fin quando la situazione non sarà chiarita lo ribadisce l'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini e non sarà definita appunto la scelta si è aperta al momento una fase di sperimentazione che deve portare ad una decisione quando questa sarà presa la polizia locale si metterà a disposizione e la farà rispettare quindi al momento un po' terra di nessuno viale dante alle ghieri comunque vedremo come la situazione verrà risolta dall'amministrazione comunale intanto per domenica prossima è previsto un flash mob da parte di forbici che alle nove organizzerà una passeggiata in bicicletta sulla pista fano pesaro e poi alle 11 30 organizzerà una manifestazione all'anfiteatro rastat probabilmente insomma si tratterà anche della questione di viare dante lighieri anzi senza il probabilmente giriamo la pagina e vediamo e andiamo a pergola a pergola abbiamo una lettera al veleno dell'ex assessore che si è dimesso dalla giunta di simona guidarelli la sindaca che governa la città una bufera politica sta accogliendo l'esecutivo di pergola dopo la diffusione di una lettera in cui mariani l'assessore in oggetto spiega le ragioni delle sue dimissioni le ragioni dell'addio sono stato lasciato solo ha detto non ho avuto alcun appoggio dal sindaco per quanto riguarda il modo il modo con cui pergola città delle tinte è stata oggetto di un provvedimento della corte dei conti per quanto riguarda il suo progetto la sindaca dunque perde i pezzi della giunta e del consiglio e collezione a bocciature dalla corte dei conti si è dimostrata incapace di gestire la fase per l'alluvione e a questo punto dovrebbe dimettersi questo è un po' quanto osserva e quanto dice il gruppo di minoranza pergola nel cuore composto dall'onorevole antonio baldelli dal fratello francesco da marta oradei e luca castratori che trae spunto anche da una pesante lettera con cui appunto mariani ha comunicato nei giorni scorsi di lasciare pure il suo ruolo di consigliere e quindi una una veramente una maretta anzi direi proprio una tempesta politica nel comune di pergola andiamo ad urbino ad urbino invece si fanno scoperte e la ricerca raggiunge traguardi veramente prestigiosi scoperte in ateneo le molecole anti covid veramente questa è una scoperta sul fronte della sanità che fa la storia lo studio è stato maturato dal dipartimento di scienze biomolecolari dove vediamo qui il dottor magnani che lo dirige la professoressa fraternali viene bloccano la normale maturazione delle proteine del virus ebbene che cosa è stato trovato in urbino sono stati così messi a punto due procedimenti e due procedimenti si tratta di molecole che inibiscono la replicazione del virus il covid il covid 19 agendo appunto su due bersagli il primo è rappresentato dalla lo leggiamo il primo è rappresentato dalla principale proteina dell'involucro virale ossia la proteina spike nella pubblicazione che che il viro usa per infettare le cellule quindi è una cosa importante inibire questo primo procedimento invece il secondo bersaglio essendo il virus dei parassiti obbligati possono replicarsi esclusivamente all'interno delle cellule se questo procedimento viene bloccato in anche in questo caso e la malattia non si trasmette e non si genera le molecole studiate capaci di penetrare nella cellula infettata bloccano la normale maturazione delle proteine del virus ebbene in questo caso i ragazzi e anzi direi gli studenti ma sono ormai dei formati professionisti hanno raggiunto dei risultati eclatanti a livello nazionale ed internazionale vediamo ora le altre notizie e beh qui abbiamo un momento momento molto molto delicato quello dell'ingresso del nuovo vescovo di urbino monsignor salvucci che è anche arcivescovo di pesaro nella sua diocesi sappiamo come l'ingresso del nuovo vescovo non tanto a livello personale ma a livello istituzionale perché si contesta l'accorpamento della diocesi di urbino con quella di pesaro sia tanto contestata l'arcivescovo salvucci arriva tra le polemiche dice il giornale domenica 5 marzo monsignor tani conclude il mandato e si insedia il nuovo prelato giacomo rossi il consigliere regionale dice mai invito fu così sgradito dunque domenica 5 marzo monsignor giovanni tani termina il proprio mandato come arcivescovo di urbino urbania sant'angelo invado e monsignor sandro salvucci arcivescovo di pesaro si insedierà come suo successore e beh mai invito fu così sgradito commenta il consigliere regionale dei civici marche giacomo rossi che contro l'unione aveva presentato una mozione in consiglio poi stata ritirata per mancanza di condivisione invitando poi marchigiani a non versare addirittura l'otto per mille alla chiesa cattolica chiaramente non c'è nulla di personale contro monsignor salvucci ha detto rossi e gli auguro un buon lavoro ma nell'arcidiocesi di pesaro invece per quanto riguarda urbino vi è stato contestato ma non solo da rossi poi ci sono anche altri esponenti che evidenziano la loro contrarietà quindi è un momento molto molto delicato quello che attraversa in questo momento la chiesa di urbino speriamo che il tempo possa essere una buona medicina e poi vediamo invece un incidente che si è verificato ad un sacerdote si tratta di don alceo parroco di scotaneto ebbene si è rovesciato con la propria auto ma per fortuna si è salvato l'incidente si è verificato ieri intorno alle 10 e 30 per causa in corso di accertamento mentre l'anziano parroco stava percorrendo via del montale ha perso il controllo della sua fiat panda salendo sul ciglio della strada per poi ribaltarsi e capottare benché è acciaccato e dolorante è rimasto cosciente ad estrarlo sono stati i vigili del fuoco di urbino che con tante precauzioni e molta accuratezza sono riusciti a tirarlo fuori consegnandolo poi al 118 al sanitario del 118 che lo hanno trasferito all'ospedale di fossombrone e poi l'hanno portato in ancona non si sa che cosa abbia causato l'incidente forse una disattenzione e forse così momento di disattenzione appunto che ha causato quello che si è verificato don alceo non ha mai perso coscienza quello potrebbe essere un buon segno per la sua pronta guarigione ed ora parliamo invece di quello che ho annunciato in apertura ovvero l'arresto dell'assassino del giovane ucciso a pesaro ecco qui il titolo l'assassino in fuga catturato in romania ha ammazzato l'amico senza un perché non ha così al momento non ha detto le cause che hanno scatenato la sua ira costringendolo costringendolo insomma motivandolo a infliggere 23 pugnalate all'amico di cui una mortale qua al collo alla carotide si chiama michael alessandrini 30 anni una vita sbandata abitava in una stanza dell'hotel san marco di proprietà dei genitori a pesaro ha percorso quasi 2000 chilometri vediamo qui l'itinerario che ha fatto questo giovane a bordo di una macchina si tratta vediamo se la trovo comunque una macchina che era di proprietà del padre e con 500 euro in tasca soltanto è fuggito vediamo qui l'itinerario che ha fatto da pesaro arrivato bologna poi è salito verso padova venezia e quindi ha barcato la frontiera con la slovenia slovenia è arrivato a budapest e poi è disceso dall'ungheria verso la rum verso la romania è arrivato a timisoara e quindi è stato arrestato ad arad è stato individuato da una pattuglia delle forze dell'ordine romene dopo una segnalazione che la polizia italiana aveva fatto hanno notato una macchina italiana parcheggiata e quindi hanno capito insomma che probabilmente lì ci poteva essere un ricercato così è stato l'uomo è stato arrestato non ha opposto resistenza ma non ha fornito al momento nessuna spiegazione comunque il fatto avvenuto continua a destare grande grande sensazione in tutta la comunità pesarese dove un omicidio l'ultimo è stato quello eclatante per quanto riguarda le forze dell'ordine per quanto riguarda l'ordine pubblico della vigilia di natale una vendetta di mafia e quindi questo ora si sovrappone in maniera veramente emblematica il papà di pierpaolo dolore e rabbia il killer non è pazzo non credete gli ha detto pietro panzieri certo che conosco bene chi ha massacrato mio figlio ha dichiarato la nostra famiglia è distrutta oggi l'autopsia della vittima per chiarire la dinamica dell'aggressione mortale è il numero esatto dei colpi inferti e qui ancora un ritorno di un complesso che a pesaro fa un grande animazione lasciamo da parte la cronaca e vediamo una notizia molto più leggera molto più confacente ad una serenità anche se una serenità tumultuosa perché i maneskin di questo parliamo sono un gruppo rock che desta emozioni e che fa esaltare la gioventù da zagabria pesaro per i maneskin sono aria nuova energia pura dice il resto del carlino oggi è il sospirato giorno del debutto alla vitifrigo arena pieri della spes l'arena grande veicolo promozionale ebbene oggi nel ventre dell'arena risuoneranno le vibrazioni rock dei maneskin per la data zero del tour che pesaro attende da ben due anni sappiamo che erano in programma era in programma questo concerto poi è arrivato il cove tutto rinviato tutto rivoluzionato ma ora finalmente è arrivato il giorno tanto atteso i tecnici sono al lavoro da lunedì scorso per l'allestimento del palco che si prevede molto molto avveneristico e tecnologico quindi anche sarà uno spettacolo oltre alle canzoni oltre alla musica ci sarà uno spettacolo di carattere coreografico all'interno del palco ebbene anche e diciamo e dicevo c'è anche molta gente che attende al di fuori della vitifrigo che le porte si aprono per appunto essere tra i primi ad occupare i posti per il concerto l'apertura delle porte è prevista per le 19 anche se c'è appunto chistazione i cancelli già da due giorni pensate lo show inizia alle ore 21 la prima canzone in scaletta potrebbe essere proprio quella che li ha portati al successo planetario ovvero zitti e buoni ma ci saranno anche i pezzi trainanti nel nuovo album e quindi ci saranno proprio delle novità che i pesaresi e tutti coloro che vengono da fuori perché ne sono venuti tantissimi potranno ascoltare per questo evento alessandro per ora resta in casa per fortuna lo sfratto verrà temporaneamente sospeso purtroppo temporaneamente comunque il comune ha promesso di aiutare questa famiglia parliamo della famiglia di un giovane disabile che ha ricevuto lo sfratto ieri doveva abbandonare la propria abitazione ma all'ultimo momento si è intervenuti e la decisione è stata rinviata sono state concesse ormai un paio di settimane prima dello sgombero in modo che il comune possa individuare un appartamento per fare alloggiare questa famiglia per fortuna questa situazione si sta risolvendo poi vediamo una notizia interessante qui riapre finalmente l'ambulatorio torna il servizio di via comandino chiuso nel 2020 per l'emergenza covid è servito come base per le operative come come base operative per le usca ovvero quei medici che andavano nelle abitazioni per fare appunto le analisi per anni punto di riferimento per prelievi e iniezioni dal 13 marzo in funzione con l'ordinaria attività e quindi riapre questo punto importante dal punto di vista sanitario e qua vediamo un altro articolo che riguarda la cronaca si tratta di una conferma di condanna massacrò la moglie condanna confermata si tratta dell'omicidio di gradara per cui è stato imputato vito cangini 81enne ex saldatore originario di sarsena reo confesso dell'omicidio della moglie natalia cricocche 61enne ucraina cuoca in un ristorante di misano adriatica è stata la gelosia in questo caso ad armare la mano dell'assassino ebbene ha avuto 24 anni di reclusione e la condanna è stata confermata in appello e quindi dovrà consumare tutti i suoi anni in prigione la tragedia è avvenuta nel natale del 2021 la donna fu uccisa con 12 coltellate vediamo ora la pagina del corriere adriatico vediamo l'apertura l'apertura è dedicata ad una iniziativa che consente ai giovani di perfezionarsi e di trovare lavoro competenze digitali per l'impresa al via il corso per formare i giovani si tratta di un'iniziativa legata al progetto regionale estero è stata presentata questa iniziativa ieri nella sala della concordia dall'assessore alle innovazioni tecnologiche e al digitale cora fattori insieme a due esponenti di una ditta privata si tratta della ditta smart si tratta della ditta fanese digital smart che propone un progetto in collaborazione che si inserisce diciamo nel progetto estero della regione Marchi che consente ai giovani di frequentare un corso di perfezionamento tecnologico per quanto riguarda il web per quanto riguarda il digitale che possa metterli in grado di affrontare tutte le aspettative di un lavoro che è molto cambiato in questi tempi e che fa riferimento soprattutto al mondo appunto del digitale quindi perfezionarsi in questo senso è un modo per incentivare di più la possibilità di trovare un posto nel mondo del lavoro e si tratta di una iniziativa interessante perché non solo il corso è gratuito ma verrà remunerato a tutti coloro che vorranno frequentarlo con 400 euro alla fine del corso stesso il corso si terrà al codma in via campanella si inizia al 16 marzo prossimo e si proseguirà per 65 ore articolate in due o tre giorni alla settimana c'è tempo per iscriversi fino al 27 febbraio quindi i termini sono molto molto vicini basta iscriversi nel sito della digital smart o nel progetto estero.it questo è un progetto appunto regionale un'iniziativa interessante ora ci fanno pagare il trasporto al centro anche il Corriere Adriatico evidenzia la protesta della mamma della ragazza autistica appunto a cui è arrivato la comunicazione del ambito sociale numero 6 che le richiede l'ise per appunto applicargli la tariffa la nuova tariffa per il trasporto fino al centro in questo caso la famiglia fa riferimento a un centro di orciano quindi è un trasporto extraurbano e dovrebbe pagare ovviamente di più rispetto al trasporto urbano anche il Corriere poi in un articolo di spalla evidenzia il fatto di cronaca del tentativo di suicidio alla darsena borghese vicino alla liscia dove appunto una cinquantenne aveva minacciato di gettarsi nel vuoto e poi invece abbiamo un articolo che riguarda le iscrizioni alla scuola dell'infanzia sono i dati che rileva l'assessore ai servizi educativi samuele mascarin premiate le strutture comunali rispetto alle strutture statali coperto il 90 per cento dei posti meno bimbi problema anche economico dice appunto l'assessore le iscrizioni alle scuole per l'infanzia comunale premiano quelle scusate le iscrizioni alla scuola dell'infanzia premiano quelle comunali dove è stato coperto oltre il 90 per cento dei posti disponibili nel caso del servizio statale invece l'indice di riferimento sfiora il 50 per cento quindi in termini statistici poco meno di un posto ogni due uno sguardo ai dati che ci propone il corriere adriatico uno sguardo ai dati a cominciare dal numero delle iscrizioni sono state 343 sulla platea potenziale di 414 che è stata supposta all'origine sono sette le scuole comunali dell'infanzia che saranno frequentate a partire dal settembre prossimo 183 tra bimbi e bambine al primo anno su una capienza complessiva di 197 posti quindi pensate i posti sono di più delle domande che sono pervenute una volta era il contrario c'erano liste d'attesa lunghe per quanto riguarda i posti disponibili ma allora c'erano anche più bambini c'erano anche più nascite ora invece le nascite si sono contratte i posti disponibili sono superiori ai posti che vengono richiesti nelle 14 scuole statali invece gli iscritti sono 160 su 334 posti disponibili l'indice di copertura è quindi di poco inferiore al 93 per cento nel primo caso e sfiora il 44 il 48 anzi per cento nel secondo e quindi c'è grande disponibilità per questo servizio importante per le famiglie vediamo anche la pagina di senigallia un pusher latitante finisce in carcere eccolo qua tradito dalle partite di ping pong si tratta di un ungherese che è fuggito dall'ungheria era ricercato ma è stato rintracciato in italia ed è stato appunto arrestato era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta mi dà appuntamento come sempre domani alle 7 e per le notizie del giorno alle ore 20 30 per quanto riguarda fano occhio alla notizia di fano tv questo è tutto a risentirci buona giornata